Siamo in onda? Bravo! E tu la sai lunga? Mi frega sempre, tutte le volte mi frega. Ciao, sono Carlo Barbero, tutti mi conoscete per Rock Up, c'è il telefono che rompe già le scatole, ma non c'è problema perché siamo al Club Vela di Pegli, mentre la Maria sta andando a rispondere. Siamo con il mio amico Fabio Di Liguria Reggae Yardis, ciao a tutti, ciao Rock Up. Allora, grazie Fabio. Liguria Reggae Yardis. Ecco, spiegiamo un po' cosa vuol dire. Liguria Reggae lo sappiamo, ma Yardis? La Yardis è il cortile, il posto dove i giamaicani generalmente si riuniscono per ascoltare la musica. Noi all'inizio avevamo preso un castello su dal castellaccio a Righi, l'avevamo totalmente ripulito, avevamo iniziato ad utilizzarlo come sede e questo castello appunto nella parte davanti aveva un bel cortile e quindi da lì gli Yardis, quelli del cortile. Ascolta, mi è piaciuto il discorso che hai fatto tu. Abbiamo preso un castello e l'abbiamo ripulito. Questo già ci dà là per andare in un discorso che puoi fare mal a fine. Ripulito perché? Era? Come l'avete trovato? Era utilizzato abitualmente come discarica sia da privati cittadini che andavano a scaricare lo zetto sia da aziende che invece che andare a smaltire regolarmente andavano comunque a gettare lì tutti i loro scarti. Allora, per chi non fosse genovese, lo zetto è il recupero dei lavori che si fanno in casa, il cemento, la calce, i detriti di quando si butta giù un appartamento, si chiama zetto, questo a casa nostra a Genova. Allora, vuol dire che voi avete ripulito dove certe persone hanno sporcato? Ma diciamo che sì, abbiamo pulito dove l'incuria dei cittadini genovesi e la non curanza delle istituzioni hanno fatto in modo che diventasse una discarica. Non è che noi spariamo sempre contro le istituzioni, però quando ci vuole ci vuole. Allora, ora presentiamo poi i nostri amici, partendo da sinistra. Alfredo Io sono Raffaele Raffaele, canto in un gruppo che si chiama Easy Skankers Io sono Alfredo, faccio parte dell'associazione con Fabio e altri ragazzi Parte alla mia destra Io sono Fabrizio E sono il fotografo Ai ai ai, qui abbiamo più fotografi che cantanti stasera E collaboro con gli altri ragazzi dell'associazione Alla mia estrema destra invece abbiamo Chiara Che faccio parte di Rock Up, ciao a tutti E tra l'altro volevo ringraziare il nuovo acquisto probabile Luca Fabre, giusto? Il nostro nuovo fotografo E allora siamo qua con Liguria Reggae Yardes Parliamo di reggae Parliamo di reggae Reggae È una cultura, viene da un bellissimo posto, ci sono stati dei grandi personaggi che sono nel cuore di tutti Cosa vuol dire oggi avere questa cultura qui, in questo paese? In questo paese Diciamo che oggi, dopo che negli anni 90 c'è stato un grosso grosso boom del reggae diciamo internazionale Anche in Italia la scena si è moltiplicata e si è allargata parecchio Oggi fare reggae, penso che il reggae sia nell'underground una delle musiche più rappresentate e più suonate E fare reggae oggi credo che comunque per chi effettivamente segue la musica e tutto quello che ci sta dietro è fare reggae esattamente come 20, 30, 40 anni fa Le grosse differenze secondo me non vengono dalla differenza dell'ascoltare il reggae Ma soltanto da tutti i nuovi supporti e tutto quello che con la rete e con internet e con il web si è avuto Nel senso che appunto prima per trovare un pezzo dovevi sudare le famose sette camicie Oggi invece fai molto presto Quindi da un certo punto è un male perché comunque si perde la ricerca Si commercializza l'altro è un bene perché comunque diventa alla portata di tutti Visto che comunque nonostante che in Italia sia ben presente nel panorama underground Nel mainstream non riesce comunque a venire fuori per una serie poi di problematiche Legate anche ai test di cui il reggae parla Ascolta abbracciare la musica reggae vuol dire anche abbracciare la cultura reggae Giusto? Sì, beh sì, ovviamente Cos'è? No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare No, non c'è nessun problema, tanto noi siamo in diretta Non ti preoccupare Cos'è che ti ha colpito del reggae? Cioè tu dici una mattina sento la musica, sentivo questo Sento questa musica qua, dico no, mi piace questa Voglio fare questa, voglio abbracciare questo tipo di musica Cos'è che ti ha fatto scattare in te la voglia di fare e di ascoltare e di abbracciare il reggae? Ma che innanzitutto, che secondo me a differenza di molti altri tipi di musica Il reggae ha un messaggio forte, forte da dare Che comunque appunto è l'amore, la pace, l'amore universale, l'unità E questo è il parlare della vita, della vita di tutti i giorni E questa è una delle cose che mi ha colpito del reggae Cioè l'affrontare i problemi che poi io e credo che tutti gli altri poi durante il giorno affrontano La vita quotidiana La vita quotidiana Gli alti e bassi, i problemi che ti rifà trovare tutti i giorni Certo, però mai piangendosi addosso Non so come dire, sempre con gioia, sempre con voglia di lottare Cioè mai subendolo Esatto, esatto, mai subendolo Mai subendo la società, cercare di combatterla Certo, certo Andiamo un pochettino più sul dettaglio Qua ci sono dei nostri amici Magari appunto, non so No, 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 parliamo un po' così Siete un'associazione Chiaramente avrete delle cariche Perché mi sembra che, come da tutte le parti C'è il presidente, il segretario E tu, se non mi sbaglio, sei il presidente È il presidente Allora, Fabrizio Tu sei il fotografo ufficiale Diciamo di questo gruppo Diciamo di sì Anche tu sei un partito di reggae Cos'è che ti ha colpito del reggae Cos'è che hai detto No, voglio fare quello Voglio andare in questa associazione Liguria Reggae Yard Parli un po' di tutto quello Che ti è venuto in mente E che cos'è che poi In fondo in fondo siete Io sono entrato a far parte Dall'associazione In quanto fotografo Chiamato da un amico Con cittadino Che in occasione Del ballo con i cinghiali Il festival di Bardinetto Mi aveva chiesto Insieme alla mia fidanzata Se avevamo voglia Di partecipare E fare foto sull'area Appunto gestita Dall'associazione Ti è piaciuto? Mi è piaciuto Mi sono divertito Io sinceramente Prima non ero Un partito Un fanatico del reggae Ho sempre ascoltato musica A 360 gradi Indipendente C'è qualcuno che mi ha fregato Perché dico sempre Io 360 gradi Mi ha fregato lui stavolta E mi è piaciuto lo spirito Comunque dell'associazione Belle cose Belle idee Belle iniziative Tanta possibilità Sia a livello fotografico Ma non solo Canti Suoni O fai solo foto? Faccio foto Gestisco il sito Il sito web E gestisco un po' Per quanto è possibile La comunicazione Diciamo Dall'associazione Insieme agli altri Naturalmente Comunque non da solo Il sito Che vogliamo ricordare È www.liguriaregge.it www.liguriaregge.it Ah è vero È una colpa mia Ora mi sposto Perché andiamo un po' di là Così il nostro amico Aldo Snyder Che saluto Lavora meglio Mi alzo Mi sposto Alla via sinistra Siamo in onda? Eh siamo in onda Allora Alfredo Tu sei il segretario del gruppo Sono il segretario Arrabbiato perché? No sono un po' il signor no Diciamo Quando c'è un'idea Io spesso prendo Perché è quello che ha il polso Hai quello che hai Un po' Cristo Diciamo con uno spirito forte critico Un forte spirito critico Quindi cerco magari di bilanciare sempre le idee Magari smorzare le parti Cioè sei quello che sta sulle scatole un po' a tutti Un po' sì Un po' sì Oltre questo? Sì Faccio anche il presentatore durante le serate Quindi annuncio insomma i gruppi Queste cose qua E faccio parte di Cuffa Sound Cioè prima di fare parte dell'associazione Facevo già parte come DJ di questo progetto Che si chiama Cuffa Sound E appunto facendo le prime feste insieme a Fabio Ci siamo conosciuti E poi con gli anni appunto è venuta fuori questa idea Di portare questo nostro Questa nostra passione a un livello superiore Con l'associazione Ecco cosa vuol dire fare segretario Come ho detto prima lui Del reggae Di questa associazione di reggae Cioè che problemi può creare Fare segretario di un'associazione del genere Tanti Sì sì un po' sì Essenzialmente sì Diciamo che più o meno tutti quelli che fanno reggae Ora non proprio tutti Però si può dire che in Italia Più o meno chi si occupa di reggae Ha spesso uno spirito se vogliamo dire un po' naif Cioè E quindi diciamo tenere magari Ordine E cercare di Di ottimizzare le idee Quindi Affinare tutto Sì magari è quella la sfida più Più dura diciamo Cercare appunto di dimenticare gli aspetti belli e positivi Allegri del reggae Invece magari cercare di Di pensare A un livello diverso E cercare di non fare Troppe cose strane Ognuno ha il suo limite diciamo Allora a questo punto Chiamerei in causa La nostra amica Chiara Siamo sempre al Clubio Lapegli Per Rockup Siamo sempre con Il Liguria Reggae Yard Siamo con Raffael Siamo sempre con Oh yeah Rockup Stand up Stand up Stand up for your rights Oh la Rockup Stand up Don't give up The fight What do you say Rockup Stand up Stand up for your rights Stand up for your rights Oh no Get up Stand up Don't give up The fight I say I say I say I say I'm tired Of your ism Schism Game Down I'm going to heaven In Jesus name Lord We know And we understand Almighty God Is a living man And you can fool And you can fool some people Sometimes But you can fool all the people All the time Now you see the light Oh la Stand up for your rights So we better get up Stand up Oh yeah Stand up for your rights What do you say Rockup Stand up Every day Don't give up The fight Allora Parliamo un po' di Raffae Ora uso io la sua battuta A 360 gradi Parliamo un po' di te Come nasci Musicalmente Da dove vieni Perché fai questo tipo di musica Come ti sei trovato con i ragazzi Parliamo Parlane bene Sennò poi magari Per carità Nient'altro che la verità Allora io Nasco Nasco a Savona Da papà nigeriano E mamma calabrese Trapiantata in Liguria Vivo a Genova Da un paio d'anni Però sempre frequentato Genova In quanto Sì Savona Era una roccaforte Negli anni 80 Del primo reggae italiano Ma è qua a Genova Con Rankin Fabio Che ho conosciuto Diciamo una controparte Odierna Nasco musicalmente Con una band Gli Easy Skankers Attivi dal 2002 Siamo attivi ancora oggi Parallelamente Mi sto dedicando Anche ad attività Collaterali Tra virgolette Con una collaborazione Con Bunna Degli Africa Unite E con Zibba Che è un cantautore Stano anche lui Abbiamo questo trio Che si chiama Double Trouble Fit Bunna E proponiamo pezzi Di Bob Marley In chiave acustica Piuttosto che Una tra virgolette Carriera solista Nel senso che Collaboro con molti Beatmaker Compositori Sempre nel reggae E non Di varie Etichette Varie personalità E quindi Faccio anche Diciamo lavori da solo Come solista Come Raffaele Insomma Adesso sto appunto Anche Producendo un disco Solista Con un'etichetta austriaca Kairi Vibrations Dopo aver fatto Già un paio di album Con la band Nel 2009 Nel 2011 Uno in giamaica Uno con Amadaschi Degli Africa Unite Insomma Un po' di anni Che ci si dà da fare E con Con Ligure e Reggae Questo rapporto Capita anche Che ci esibiamo insieme Come appunto Se non con la band Posso esibirmi Con DJ E spesso e volentieri Perché Non dimentichiamo Che Fabio Oltre che fare presidente E anche DJ Eh appunto Così come il segretario Non è che fa solo presidente Esatto Quindi Mi capita spesso Di esibirmi anche Con Sound System Tra cui appunto Groovyard Con Ranking Piuttosto che Cuffa Sound Posso Scusa Posso interromper Tu una C'è C'è Il nostro amico Aldo Snyder Qua Che sta Sbavando letteralmente Perché ti sta guardando I capelli E allora Ti guarda i capelli Ma perché non faccio Rasta anch'io Non si può No Siamo scherzando Salutiamo Il nostro amico Aldo Sempre bravissimo E sempre puntualissimo Professionalmente Inappuntabile Chiara Qualche curiosità È la prima volta Che intervistiamo Un gruppo Reggae Hai qualche curiosità? Allora Io volevo chiederti Se la tua passione Per il canto È una cosa autodidatta Oppure hai preso Ho fatto dei corsi Com'è la musica reggae Io da Non ne capisco proprio niente Una cultura completamente nuova Per me Ma guarda Direi che In generale Non impari a cantare Nel senso Sì ci sono delle scuole Di canto Piuttosto che Però Diciamo che la vocazione Tra virgolette Arriva Arriva da solo Tant'è che hanno provato I miei genitori A farmi studiare Prima pianoforte Poi chitarra Ma finché A 15 anni Non è partita proprio da me La cosa di voler fare musica Ho imparato più da solo Che quando andavo Diciamo a lezione Il reggae L'ho ereditato Diciamo da mio papà Che è un africano Ma sempre ascoltato di tutto Da Julio Iglesias A Barry White Passando per Bob Marley Insomma Proprio 360 gradi Tornando E insomma Il reggae Di tutte le musiche È quella che non mi stanca mai Di tutte le musiche È quella che Riesce sempre a migliorarmi A migliorarmi la giornata È sempre quella che Nonostante tutto Ti ritrovi Anche a volte Tu ho malgrado Perché A volte dici No vai ascoltare Però il piede Ti batte sempre Insomma È come un po' La fidanzata Da cui torni sempre a casa Io volevo chiederti Anche un'altra cosa Quindi tu sei Praticamente Un insieme di culture diverse E qual è la cultura Comunque anche musicalmente parlando Che ti ha colpito di più Beh Diciamo che Così come C'è il proverbio Tutto il mondo è paese Anche tutta la musica È musica Nel senso che Guarda solo che il reggae Che non è nient'altro che L'interpretazione caraibica Degli standard Rhythm and blues Soul americani Conditi con la loro Situazione sociale Con il loro Background musicale Che si portavano Chi dall'Africa Chi dai paesi Locali Insomma Ecco Un'altra cosa Mi piace del reggae Appunto Che è Un po' come io Vorrei vedere il mondo Ovvero Tant'è che La Jamaica L'isola del reggae Diciamo Il motto della nazione Out of many One people Da tante genti Un solo popolo E la musica reggae È la stessa cosa Tu hai tanti elementi Tanti Tante Diciamo Culture Tanti ingredienti E il risultato finale È una cosa bella E forte In quanto risultato Di un miscuglio Di un'unione Quindi per avvicinare I giovani ragazzi A questa cultura Tu cosa Vuoi dire a loro? Ma in realtà Secondo me La cultura La cultura reggae Così come Bob Marley Che è stato Il massimo esponente Diciamo È già Diciamo C'è una cosa Che c'è Nel senso Che comunque Purtroppo È molto diffusa E molto superficialmente Insomma Tutti sanno Chi è Bob Marley Se gli chiedi Qual è una canzone Oltre a No Monocrai Non si va mai Più che Diciamo che Ecco Il mio invito È quello di Ma così Nel reggae Come per tutto Nella vita Di non Rimanere Alle prime Impressioni Superficiali Ma Prima di farsi Un'idea precisa Approfondire Perché poi non è detto Che possa piacere Uno del Tirolo Magari È scosso Da altre cose Piuttosto che uno di Cuba Piuttosto che uno che Però appunto Se non altro Informarsi Provare a capire Cosa c'è dietro Perché appunto Poi è facile cadere Anche nei luoghi comuni I capelloni La droga Questo e quell'altro Ma è soltanto Una parte E queste quante Perfetto Ringraziamo Raffaele E lascio la parola A Carlo Barbero E io te la ripasso Perché voglio Che tu adesso Fai il giro Rock up Siamo qua con Fabio Il presidente Di Liguria Reghi Yardis Allora ciao 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 Fabio Io ti voglio chiedere Questa cosa La tua passione Per questa musica E la tua voglia Comunque di creare Un'associazione del genere Che cosa ti dà Che emozioni Provi Nel fare queste cose Ma Intanto dietro C'è una grande 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 passione Nel senso che Tutto quello Che Facciamo Tutto quello Che abbiamo fatto Fino ad ora Appunto Nasce da una grande passione Non nasce dal Dal voler Fare lucro Non nasce Da nessun'altra cosa Che non sia Una grandissima passione Il reggae Almeno per quello Che riguarda me Il reggae È la mia vita E quindi Secondo me Era probabilmente Più Più utile Nonostante che Appunto Abbia Comunque suoni Faccia il dj Abbia il mio gruppo E le mie cose Dal 1999 Ormai Mi sembrava giusto Riuscire a mettere Non so A provare A condividere Le cose Che provavo io Per questa musica Per questo messaggio Provare a condividerle Con altre persone E vedere Di riuscire A fare qualcosa In più Ecco Dagli anni 90 Diciamo ad oggi Che cosa è cambiato Nella musica reggae Cosa si è migliorato Invece Che cosa invece È cambiato In negativo Secondo te Purtroppo Ci sarebbero da fare Lunghi discorsi Sull'argomento Oggi La musica La musica reggae Purtroppo Soprattutto In giamaica Si sta allontanando Parecchio Da quella Che era Da quello che era Il messaggio Comunque originale Del reggae Si è Si è molto Commercializzata Si commercializzata E È proprio cambiato Il Il Ovviamente Non per tutti Però Ormai La musica La musica reggae In giamaica È Musica pop O Musica Alla fine Da discoteca Rivolta A un pubblico Di Ragazzini In cui Si parla Prevalentemente Di soldi Droga Macchine Donne Quindi si è perso Il significato originale Della Della musica stessa Giusto Quindi purtroppo Nella Nella grande Massa Nella grande Perché ovviamente C'è chi ancora Mantiene il messaggio Originale Il problema È che appunto Essendo questa Diventata ormai La musica Popolare Quella che tutti I giamaicani Ascoltano regolarmente Alla radio Per Per il fatto appunto Che oggi tu Esce Una nuova cosa Schiacci Schiacci download E ce l'hai già a casa Tendi Ad approfondire poco E a prendere Tutto quello Che il mercato passa E al momento Il mercato giamaicano Purtroppo Passa tantissima Tantissima musica Che Dovrebbe essere Un pochino Un pochino rivista Dopodiché Sta come diceva Prima Raffa E appunto Sta alle persone Cercare Anche Anche oggi Quegli artisti Che magari Sono un pochino O meno Sponsorizzati A livello commerciale Ma che comunque Mantengono Mantengono fede A loro A loro A quello che è La musica reggae In origine Ecco Invece Artisticamente Musicalmente Tu a chi ti ispiri? Ma io Allora Essendo che noi Noi facciamo i DJ Facciamo i DJ In un sound system Giamacano Che Non è esattamente Come fare Il Il DJ Disco Per una serata Nel senso che In teoria In un sound system Reggae C'è un connubio Tra Chi mette i dischi Un qualcuno Con un micofono Che ha chiamato MC Che Fa da tramite Tra Il messaggio Che il sound system Vuole dare Ed il pubblico E il pubblico stesso E E quindi È un'interpretazione Un po' diversa Del classico DJ set Quindi Ispirare Ispirare C'è un sacco Di gente Che Che è ispirato La mia La mia Chiamiamola Vocazione musicale Cioè Ovviamente Il primo È Bob Marley Nel senso che Comunque È il primo Che sicuramente Arriva Anche a chi Poi il regge Non lo Non lo Ascolta E non ne fruisce Comunque Peter Tosh Dennis Brown Ce n'è Ce n'è Una Categoria Infinita Poi appunto Noi essendo DJ Cerchiamo Ovviamente Di spingerne E di conoscere Il più Il più Possibile Ecco Quindi Un po' tutti Dai un po' tutti Ecco Perfetto Ringraziamo Fabio E passiamo All'altro componente Eccoci qua Di nuovo Con Liguraria Ghigliardis Siamo con il segretario Ciao Salutiamolo Ciao Sono Alfredo Ciao Alfredo Allora Tu sei anche grafico No? Allora Come è nata La tua passione Per questo tipo Di settore? Per necessità Essenzialmente Quando abbiamo iniziato A mettere i dischi Chiaramente Non potevamo Sobbarcarci L'ennesimo 50-100 euro Da dare al grafico Per farci il volantino Quindi Ci siamo Impratichiti Di Photoshop Abbiamo iniziato A farceli da soli Poi chiaramente Decine Centinaia di serate Cresce anche l'abilità Diciamo Magari L'occhio Diciamo Un po' più grafico Poi comunque Io ho sempre avuto La passione Sin da piccolo Sempre disegnato Quindi Un po' Diciamo Ero già portato Quindi Grazie al reggae Ho acquisito questa Capacità in più Diciamo E invece Come è nata La tua passione Per il reggae Che cosa ti ha portato A dispirarti A questa cultura musicale? Ma anch'io Come diceva Raffaele Sono sempre stato appassionato Di black music Dal blues Al soul Fino all'hip hop E poi Diciamo Verso Derivata Dalla delusione Del mondo Del mondo hip hop Verso la fine Degli anni 90 Ho cercato Cioè Ho trovato Più o meno Simili input Nel mondo Del reggae Della dancehall Ma delusioni In che senso? Spiegati meglio Delusioni Nel senso che Ho iniziato ad ascoltare hip hop All'inizio degli anni 90 Quando Voglio dire Era fatto in un determinato modo C'era un background forte Appunto di musica Soul Funky Era molto legato Cioè Difficilmente si scappava Da questo Connubio Diciamo Era musica nera Dopodiché Diciamo Dopo la metà degli anni 90 Ha iniziato a cambiare molto E verso la fine Diciamo Non c'erano più né I principi Diciamo Che hanno sempre governato Hip hop Che sono quelli del reggae Appunto Della fraternità L'antirazzismo Tante cose di questo genere Lo spirito critico Verso la società Verso la fine degli anni 90 Finivano sia queste belle cose Che tenevano su l'hip hop E la Zulu Nation Che anche musicalmente Diciamo Non si poteva più ascoltare Non era più hip hop Ed è più o meno Una cosa che sta succedendo Anche oggi con il reggae Cioè C'è una parte Che si è evoluta Talmente tanto Da Quasi poi Adesso risultare staccata Dalle origini Di questa musica Quindi la Den Soul Che si produce oggi Come cercava di spiegare Fabio Non è quasi In alcuni pezzi Non puoi quasi più riconoscere La radice La radice del reggae E più o meno appunto Era successo La stessa cosa Nell'hip hop Solo che a mio avviso In ogni caso Nel reggae Grazie soprattutto Al contributo europeo Ai nostri gusti E a come facciamo le cose Noi proprio a livello europeo Mediamo fortemente Con quello che è Il reggae Che viene dalla Giamaica Quindi La mediazione Tra appunto Il reggae giamaicano Se vogliamo dire Molto Distinto Molto violento E L'accezione Il modo di fare europeo Contribuiscono Nel dare un'idea Del reggae Globale Magari più Secondo me Felice Rispetto a quella di hip hop E per quanto riguarda Il reggae Nel panorama italiano? Secondo me Soprattutto in questo momento L'Italia E non solo Dal nostro punto di vista Ma anche se si sentono Interviste di artisti giamaicani È Tra i primi Tre paesi europei Assolutamente In cui il reggae Come sa Un domina Non per niente Bob Marley Ha fatto il suo Massimo record Di presenze A Milano Quindi Diciamo Forse da lì Bob ha lasciato Questo piccolo seme Che poi negli anni Ha fiorito In tutte le regioni D'Italia Noi adesso Stiamo conducendo Tra l'altro Un lavoro Come associazione Un documentario Un documentario Proprio sulle origini Del reggae In Liguria Che però si mischiano Anche con le origini Del reggae In Italia Perché appunto In Liguria Come diceva Raffael Con la Savona Posse Diciamo La Savona Posse Sono stati proprio I primi A muovere i passi All'interno di questo In tempi assolutamente Non sospetti Cioè 83 84 Il reggae In Italia A quel tempo Non esisteva E quindi appunto L'Italia Ha vista molto bene Cioè noi Come ti dicevo prima Forse in questo momento È l'Europa Che tiene su Il vero Reggae Con tanto di messaggio E comunque Musicalmente di qualità E secondo te Invece il paese Dove La cultura reggae Comunque il messaggio È stato sviato Qual è? La Giamaica Per prima Sì assolutamente E da lì Alcuni dicono Anche a causa Dell'influenza Degli Stati Uniti E dell'hip hop Però secondo me Sono due cose Che sono andate Sempre parallelamente Si sono Hanno entrambe Influito All'evoluzione Dell'altra In maniera pari Quindi Devo dire sì Questi due posti Giamaica e Stati Uniti Per quanto riguarda Progetti presenti E per il futuro Cosa hai in mente? Cosa avete in mente? Feste sempre più grandi Sempre più belle Musica sempre più bella E magari Credo che in questo momento qui In cui tutti hanno accessibilità Alla musica liberamente Tramite la rete Figure come La nostra associazione O come i DJ Possono fare da filtro Tra la musica Di qualità E la musicaccia E il pubblico Che invece è esposto A tutto In maniera indiscriminata Perfetto Ringraziamo il nostro amico E passo la parola A Carlo Barbero Allora con Ranking Fabio Volevo fare un discorso Un po' Più sul discorso Locali Cioè noi siamo in una città Dove tutti i musicisti Che ho avuto la fortuna Di incontrare Non è che si lamentino Dei locali Però non ne parlano Neanche troppo bene Dei locali Sono un po' artigente Addirittura i soldi Non se ne vede Addirittura come ho detto L'altra volta Con l'amico Bobby Soul Che saluto Tra l'altro saluto L'amico Saluto l'amico Bob Quadrelli Ciao Quadro Grande Ciao Bob E Il problema locale A Genova Com'è il problema locale A Genova Rapportato alla vostra musica Cioè alla musica regga Ma Il problema rapportato Alla musica regga E dei locali In generale Genovesi È quello Che si trovano Comunque ad affrontare Tutti quelli che fanno Dal rock Al punk A qualsiasi altro Tipo di musica I locali sono Poco attrezzati Spesso appunto Dicono Ti chiamano E poi ti dicono Che te Devi portargli la gente Che voglio dire Se tu chiami un artista Lo chiami E lo paghi Perché probabilmente Ti interessa farlo Suodare nel tuo locale Dovrebbe essere Che è finita la serata Poi che ti va male O ti va bene Voglio dire Poi Ci si può anche Mettere d'accordo Poi alla fine Però Voglio dire Non può funzionare Che la gente A locale La pubblicità A locale Gliela devo fare io E se poi non c'è nessuno Non mi paghi Non funziona 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 un po' così Purtroppo Ultimamente Oltre al fatto Che noi Noi come Movimento Reggae Abbiamo un ulteriore Un ulteriore problema Che sono sempre un po' Le solite Le solite questioni Ah chi Aspetta Aspetta Allora Tu non Lo so che non vedi l'ora Di sparare la canonata Però 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 La spariamo subito La canonata La spariamo Raffi La spariamo subito La spariamo subito Però che co Ecco Il problema è questo Allora Il reggae Generalmente E i musicisti Reggae Gli artisti reggae I DJ reggae Tutti quelli che Fanno reggae Si portano dietro Una nomea Anche perché Sono costretti Dico costretti A suonare sempre In centri sociali In Come posso dire In zone recuperate Come dicevi prima tu Castelli demoliti Se poi la nostra amica Maria Lava i piatti Un po' meno rumore Con meno rumore E Siamo costretti A fare queste cose Però Perché La gente Cos'è che la gente Deve capire Che Nei centri sociali Chi fa reggae Chi porta i capelli Come te Eh Cosa deve capire Eh Dovrebbe capire Ma allora Allora Andiamo con ordine Andiamo con ordine Secondo me Allora Il problema Dai Dai Sei tranquillo No no Non è Che Non puoi arrivarci Comunque Il problema è che Quando si va a chiedere Ci fate fare una serata Una delle cose Che ti vengono dette Eh ma la gente Che fa reggae fuma E non fuma sigarette Fino a otto anni fa Non fumo più Ok È vero Anche il discorso Al contrario Che se nel tuo locale Non puoi fumare sigarette Non puoi fumare Nessun altro tipo di cosa Quindi il problema Dovrebbe essere risolto Da questo punto di vista Quindi vorrei dire A tutti quelli che organizzano Serate reggae Di non preoccuparsi Perché se nel locale Non si può fumare Nessuno fumerà Nessun tipo di cosa Perché non si può E sarebbe un po' difficile Da nascondere Ehm Dall'altra parte Le cose si fanno Nei centri sociali E non E non Nei 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 locali Perché Perché è più semplice Perché per gente Che si Che comunque Si autoproduce E di cui la serata Magari costa 200 euro Io poi devo spendere 300 per il locale 200 per la SIAE 100 per i buttafuori E alla fine Mi costa più Prendere un locale O fare una cosa Una cosa fatta Fatta Come Dio comanda Piuttosto che farla In una cosa Di centri sociali La gente ha tanta paura Di centri sociali Ma non dovrebbe averne Perché poi Sono frequentati Da persone Da persone come gli altri Semplicemente Si cercano di fare le cose Per far sì Che la musica Sia Sia fruibile a tutti Anche a chi Poi alla fine I 5 euro in tasca O i 10 euro in tasca Non ce li ha Per poterti bere una birra Con un euro e mezzo Invece che con 5 euro E per poter poi Alla fine Far dentro Un po' Quello che ti piace Senza che nessun cartello Te lo debba proibire Che sia una sigaretta O una qualsiasi altra cosa Ecco Voglio dire Volevo cogliere L'occasione Per ora Io giustamente Devo stare di sopra delle parti Perché oggi intervisto Liguria Reggae Yard Molto volentieri Ma domani può capitare Di intervistare Una persona che gestisce Una discoteca Di conseguenza Io devo stare di sopra delle parti Però Io mi schiero sempre Dalla parte di Chi secondo me Chi secondo me È dalla parte del giusto Se noi analizziamo Quello che succede Al sabato A lunedì A domenica Succede quasi Esclusivamente nelle discoteche Quasi mai Nei centri sociali Anzi mai Perciò Chi vuol capire Capisce Allora Raffi Come dicevamo prima Con l'amico Fabio Il reggae Era portato Ai locali Tu stai girando l'Europa Di questa Di questa Diciamo così Cultura Ne hai fatto Se mi passi la parola Una professione Lo fai A 360 gradi E lì lo dico sempre Lo fai Con tutto te stesso E lo fai anche perché In soldoni Ci devi mangiare Perché alla fine Dalla favola Poi tutti mangiamo Anche quelli che fanno reggae Mangiano Ecco Anche tanto Com'è La situazione Nostra Genovese E italiana E estera Che tu stai girando l'Europa Com'è la situazione Dei locali Rapportati a questo tipo di musica Ma sì Guarda ti dico Quella europea Da poco che ho potuto vedere Partiamo da quella più macro Insomma A Londra non hanno i problemi Che abbiamo qua noi Ma a Londra non ne hanno mai I problemi Che abbiamo noi Nel senso che Ho visto posti A Londra Che qui non darebbero In gestione Neanche Al Al più piccolo circoletto Nulla è E la loro filosofia Qual è Guarda piuttosto Se tu vuoi fare la festa O se vuoi farti il club Eh te lo fai lo stesso Questo lì Il governo inglese Quindi C'era questa Questa stamberga Con un registratore di cassa Nuovo E tutti i frighi Apposto Eccetera La gente ci faceva musica Quindi hanno molta più Facilità nel concedere I posti Le cose Meno burocrazia Perché tanto la gente Se lo vuoi fare Lo fai Quindi tanto vale Che io te ne dia la possibilità Di farlo Nella più sicurezza possibile Eccetera Questa Quel poco che ho visto fuori In Italia A Genova In Italia Comunque purtroppo La situazione Va sempre di pari passo Con l'economia Con quanti soldi Ha la gente in tasca E chiaramente Con i governanti Ultranovanteni Che abbiamo Quindi sappiamo benissimo La situazione Che abbiamo qua In Italia Per cui Quando appunto I soldi ce ne pochi Le prime cose che saltano In teoria Comunque anche in pratica Sono poi divertisman Sono il cinema Sono la pizza fuori Sono il concerto E purtroppo È tutto Tutto correlato Appunto La gente esce meno O se esce Spende meno Se quindi prima Era pizza Cinema Concerto Adesso è soltanto Una delle tre Piuttosto che I locali Per far fronte A delle spese Perché mi metto Anche dalla parte Di chi mi deve pagare Perché comunque Tra ziae E bar Questo e quell'altro Ti ammazzano Quindi il risultato È che tutti pagano troppo E tutto costa troppo E quindi si fa tutto meno Però c'è meno cultura È facendo così Assolutamente Purtroppo Poi si è costretto Parlo da uno Che ha una band Di prima 12 10 E adesso 6 elementi Perché tu hai fatto i tagli Come Monti Ho dovuto fare i tagli Chiaramente Ti costa meno Un DJ Due DJ Piuttosto che una band Tanto più Se una band Ci vuole anche Una strumentazione Eccetera eccetera Quindi purtroppo È un problema Un po' generale Dell'Italia La cosa bella Dei centri sociali Che comunque Frequento molto È che appunto Si offre Spesso e volentieri Se non altro Con la qualità Con una buona qualità Spesso e volentieri Anche più Qualità più alte Rispetto a certi Certi locali Comunque si cerca di offrire Un servizio A tutti quanti A prezzi popolari Insomma Programmi futuri Di questa bella associazione Allora Programmi futuri Innanzitutto Vi vogliamo invitare Tutti Anche voi Se vorrete venire Sarete i nostri ospiti Il 9 febbraio Sempre al Pinelli Faremo un tributo A Peter Tosh Che insieme a Bob Marley È uno dei nomi Di spicco Del regge Giamaicano E mondiale E poi Niente Rimanete Rimanete sintonizzati Perché quest'anno Torna Balla coi cinghiali Quindi Tenetevi informati www.ligurialegge.it Trovate tutte le info Se no ci seguite Sulla pagina facebook Grazie Grazie a voi Di averci ospitato Aspetta un attimo Perché tanto Aldo Sarà arrabbiato Per arrabbiato Non mi interessa Vorrei che tu parlassi Perché non tutti sanno Cos'è questa bellissima Manifestazione Di Balla coi cinghiali Volemo parlarne magari Un attimino Per far capire Un po' a tutti Che cos'è Quei tempi televisivi Balla coi cinghiali È un festival O volendo Un ecosagra Perché si è molto Attenti all'ambiente Al riciclo All'impatto zero Al chilometro zero Eccetera eccetera In cui noi ci occupiamo Di fare Di programmare Una parte Di questo festival Che è l'aria regge Si tiene a Bardinetto La settimana Dopo quella di Ferragosto Ora poi appunto Se rimarrete Anche sul loro sito www.ballacoicinghiali.it Potrete trovare Tutte le informazioni Del periodo E tutto Si svolge A Bardinetto Che è sopra Savona Due anni fa Abbiamo raggiunto Ottantamila presenze In quattro giorni Secondo me È bellissimo Quindi vi aspettiamo Vi aspettiamo di nuovo A Bardinetto Un saluto da Raffaele Liguria e Raggiardis Rock Up Ciao Per Rock Up Da Carlo Barbero E E dal nostro amico Aldo Snydero Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima